Da anni la Commissione, oltre il MUSP, chiede che la zona di Sassa sia dotata di una vera e propria cittadella scolastica che raccolga in un unico plesso le scuole presenti. La triste realtà, invece, è che dopo sei anni gli studenti sono ancora costretti a studiare nel provvisorio. I passi avanti, però, sono stati fatti grazie alla tenacia della Commissione e con l'inaugurazione di LAP, il laboratorio di architettura partecipata, che si occuperà del master plan del nuovo polo scolastico, i tempi sembrano accorciarsi. Dopo sei anni di assoluto silenzio, di rinvii continui, negli ultimi anni, grazie anche alla collaborazione di ActionAid e alla visibilità che ha dato alla nostra, tra virgolette, lotta, alle nostre richieste per avere un polo didattico, un polo scolastico all'avanguardia qui a Sassa in una zona ad alta espansione demografica. Una zona che non ha più scuole, perché sono ormai tutte inagibili dopo il sisma. Una scuola che comprende ben 400 e più alunni e alunne e quindi un territorio che ha diritto ad avere questo, di nuovo, un bene comune, quindi una scuola. Del resto, per la nuova scuola, ci sono sia i fondi che l'area. I fondi ci sono già da anni. Infatti la nostra perplessità era appunto questa, perché non venissero spesi. Per quanto riguarda l'area, in questi anni ci hanno chiesto di individuare, di proporre, e noi questo abbiamo fatto. Certo, adesso loro decidano dove, per noi va bene, nell'area di Sassa, di questa frazione, e dove vogliono. La mettessero dove vogliono, basta insomma che i tempi comincino a diventare un po' più stretti. E con l'assegnazione dell'elaborazione del masterplan al laboratorio appunto di architettura di Cucinella, abbiamo capito che questi tempi si stanno appunto stringendo. Le condizioni dei ragazzi nei MUSP sono quelle che sono, spazi ridotti, ma soprattutto l'assenza assoluta di palestre e dei laboratori. Le condizioni sono che dal punto di vista didattico la scuola viene portata avanti sempre in modo eccellente, sia dal punto di vista progettuale, dal punto di vista programmatico, dal punto di vista delle competenze delle insegnanti. Da questo punto di vista noi stiamo tranquille. Però se una scuola d'eccellenza passa anche attraverso le sue strutture, beh certo è per questo che noi vogliamo una scuola nuova, quindi con laboratori, con una palestra. Questo MUSPino ad esempio non ha neanche una palestra.